Musica Benvenuti nel nostro primo video! Io sono Alessia, ho 18 anni, quasi 19, e sono nata a Toscanaccia. Sono nata a Pisa, però ormai da quasi 5 anni vivo con la mia famiglia in Abruzzo all'Aquila. Come potete vedere oggi sono al Maneggio, al centro ippico a Terno 2. Lei è la mia cavallina, Balou, insomma molto simpatica, che ha una sella belga del 2006. Lei ha una particolarità, ossia le lunghissime ciglia. Ora vi lascio una foto in modo che le potete ammirare bene. Vi parlerò del suo carattere. Da terra è una cavallina molto simpatica, molto giocherellona e soprattutto affettuosa. Ciò l'ho potuto vedere fin dai primi giorni che l'hanno portata qua. Invece per quanto riguarda Insella, lei ha una cavallina molto, e sottolineo molto, esigente. Non posso sbagliare proprio nulla. Lei l'ho presa a Roma e quando sono andata a provarla c'erano lei e un altro cavallo, un castrone di 9 anni. Innanzitutto, in arrivata al maneggio, ho provato questo castrone di 9 anni e, se devo essere sincera, me ne sono innamorata follemente appena l'ho montato. Invece, Baloo non mi ha molto ispirato. Infatti, dopo due tempi di trotto, disse alla mia struttrice che non era la cavalla per me e che volevo scendere. Però, quando l'ho montata, si è dimostrata una super cavalla, perché nonostante fosse la prima volta che l'avessi montata, nel nostro primo percorso di prova di un mese e quindici, non ha sfiorato nemmeno una barriera volando sopra i salti. Grazie a tutti! Insomma, dopo questo percorso, ho cambiato un po' la mia opinione su di lei. Mi sono cominciata ad incuriosire, ad interessare a questa cavalla. Allora, abbiamo deciso di chiedere ai proprietari di portarla in prova qui all'Aquila per una settimana e loro ce l'hanno consentito. Devo essere onesta con voi. Appena è arrivata, diciamo che mi ha colpito un po' di più rispetto... Rispetto alla prova che avevo fatto a Roma. Quando l'ho montata, in questa settimana, ho potuto capire che era la cavalla perfetta, perfetta, ideale per me e che mi avrebbe potuto insegnare tantissime cose. Lei, nonostante l'età, ha poca esperienza in gara. Infatti, questa era la cosa che ci aveva un po' lasciato di stucco, come me in questo momento. Venite con me. Ok, ora c'è l'egocentrico Gotthard Bianche, prepotente. Lui è l'amore della mia vita, o meglio, è stato il mio primo cavallo. Noi siamo stati insieme per circa quattro anni. Come potete vedere, ora è tornato da noi al maneggio, guardate i figli. Oppure l'altro cavallo, perché vuole tutta l'attenzione per lui. Dato che ora sarà con noi nel nostro maneggio, in questi giorni me ne occuperò io. Scusatelo. E niente, nei prossimi video ci sarà anche lui, quindi vi do un bacione e ci vediamo.